identitario della città. Finalmente restituiamo a noi stessi, ai riminesi, a chi verrà dopo di noi, ai turisti di tutto il mondo, il patrimonio storico identitario della città. Il countdown è partito. L'amministrazione comunale di Rimini assicura che entro 365 giorni saranno terminate tutte le maxi opere pubbliche di stampo culturale. Si parte dal cinema Fulgor, la cui ultimazione dei lavori è prevista per agosto, fino ad arrivare alla prima del Teatro Galli nell'estate del 2018, passando per l'ultimazione del giardino di Castel Sismondo e del progetto Tiberio. Questo farà la differenza per ricollocarci in una dimensione internazionale, cambierà il volto della Romagna, cambia un volto d'Italia. Quattro anni fa parlavamo di fogne, cubature, cemento, oggi la città parla di cultura. Il countdown, il contro la rovescia, in realtà è iniziato 31.000 giorni fa, cioè 85 anni fa. Quando nel 1944 cadono le bombe, si distrugge il teatro, beh, da allora aspettiamo di riavere il patrimonio storico, culturale, identitario della città. Tanti progetti e tante le critiche giunte dalle opposizioni e dal mondo culturale della città. Con un po' di amarezza voglio constatare che ci sono, come dire, i protagonisti del no, coloro che hanno sempre detto no, no alle fogne, no all'intervento sul porto antico. Rimini ha un futuro con la sua storia, con la sua identità, con la sua cultura.